Maria De Filippi, il figlio Gabriele e Giulia Stabile. Il trio che non ti aspetti. Quello che sta succedendo è incredibile. Maria De Filippi, la regina della televisione italiana è finita al centro delle cronache rosa. La timoniera di uomini e donne si è concessa qualche giorno di meritato relax in vista del suo ritorno al lavoro. L'ordinaria programmazione delle reti Mediaset riprenderà. Come di consueto a settembre, manca davvero poco dunque per la messa in onda delle nuove stagioni di alcuni dei programmi più seguiti di Mediaset. I telespettatori sono in trepidante attesa. C'è concitazione e fermento soprattutto per l'inizio del dating show di Canale 5. Si vocifera infatti che la De Filippi sia pronta a cambiare le regole del gioco, apportando nuova linfa allo show, senza snaturarne il fulcro. Trattasi di un lavoro meticoloso e puntuale che svolgerà con massima attenzione. Dunque in vista delle registrazioni, si sta godendo il relax. La conduttrice è stata pizzicata presso la sua villa a Dansedonia e, a bordo della barca in compagnia di amici. Anche in vacanza la timoniera del talk sui sentimenti non rinuncia allo sport. È noto che adori tenersi in forma e che ami sfidare i suoi amici a padel. Maria De Filippi, il figlio Gabriele e, Giulia Stabile, il trio che non ti aspetti. Maria De Filippi ha deciso di mettersi alla prova in un match con il figlio Gabriele e, lo scatto che li ritrae intenti a divertirsi sul campo. Ha fatto il giro della rete. A pubblicare la storia Instagram è stata infatti Giulia Stabile, vincitrice di Amici 2020, oggi punta di diamante del corpo di ballo del talent. In men che non si dica sono state avallate molte congetture. In tanti infatti sospettano che la ballerina frequenti il figlio della conduttrice. In vero, non è un'ipotesi attendibile. È infatti noto che siano soltanto buoni amici. A corredo dello scatto a Giulia Stabile ha scritto. Gabriele mi dispiace ma la Mary non si batte. In tanti sperano che tra loro possa nascere un amore. Ma come poc'anzi accennato, tra la ballerina e Gabriele c'è uno splendido rapporto amicale. Gabriele è il figlio di Maria De Filippi e di Maurizio Costanzo, adottato dalla coppia nel 2004. Sono profondamente legati e, in seguito alla dipartita del noto giornalista, il loro rapporto è divenuto più forte. Condividono infatti la tristezza per la scomparsa del compianto Costanzo. Proprio il giornalista in una passata intervista riguardo al figlio rivelò. Lui lavora con Maria. Sono unitissimi. Ritengo il suo arrivo un miracolo.